Manca poco alla fine delle scuole, oggi al centro all'Ende la conclusione di una delle attività che si sono protratte lungo tutto il corso dell'anno nelle scuole primarie e dell'infanzia della città di Spezia, il laboratorio dell'Apter. In questa sala al centro all'Ende, nei portici di Via Chiodo, gli elaborati dei ragazzi che hanno riflettuto sulle tematiche ambientali è un momento di sintesi, di condivisione con le esperienze che ciascuno ha vissuto sul territorio. C'è una scoperta più di altre che in questi momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente vi ha colpito? Allora, personalmente a me mi ha colpito molto che, per esempio sulla biodiversità, io ho scoperto anche nuove specie di frutta, verdura che io manco pensavo che esistessero, soprattutto per quella scoperta delle patate e delle Ande. Io ne conoscevo due, massimo tre tipi, invece poi guardando foto su internet insieme a miei compagni e le professoresse mi ha molto colpito questa biodiversità. Per voi invece c'è qualcosa che vi ha colpito di più? Sì, più che altro tutte le piante che ho conosciuto, perché io ne conoscevo pochi tipi e invece con questo lavoro appunto della biodiversità ho conosciuto altre specie di piante. Riguardo alle abitudini, c'è un'abitudine invece che avete scoperto essere dannosa per l'ambiente, qualcosa che vi è rimasto anche nel quotidiano, un insegnamento da portare avanti? Sì, tipo che alcune specie di piante hanno un clima per crescere e crescono solo con quel tipo di clima. Le ragazze hanno risposto positivamente, infatti ci sono state moltissime adesioni, noi tutti gli anni proponiamo l'offerta formativa dell'Abter che dura tutto l'anno scolastico praticamente. In 15 anni di attività con il l'Abter del Comune della Spezia come avete visto cambiare la sensibilità dei più piccoli, dei giovanissimi nei confronti dell'ambiente? La sensibilità è una dotte implicita nel giovane, nel ragazzo, nel bambino. Quello che è cambiato è soprattutto le conoscenze, il patrimonio di conoscenze che derivano non solo dall'esperienza quotidiana con i programmi televisivi, ma soprattutto con le attività che fanno a scuola e che noi nel tempo abbiamo sempre cercato di fornire come supporto agli insegnanti in modo da realizzare una formazione sempre più consapevole e approfondita che parta da un confronto diretto con il contesto ambientale, non sia solamente un elemento trasmesso, ma veramente esperito dai ragazzi attraverso un'attività sul campo. Grazie.